Innanzitutto a San Siro viene mostrata la Coppa UEFA vinta dall'Inter a Parigi lo scorso 6 maggio. Un mega striscione anche per Moratti che oggi compie gli anni, auguri anche da parte nostra. Molti gli assenti, molti nazionali se ne sono già andati, Giorca F, Zamorano, Zanetti, ma rimane Ronaldo perché l'obiettivo dell'Inter oggi era quello di far segnare il suo 21enne cannoniere. Dall'altra parte l'esordio in A per Giacomo Mazzi e allora vediamo come l'Inter ha provato a far segnare Ronaldo. Qui ci prova il brasiliano un tentativo di pallonetto e la difesa dell'Empoli si chiude anche l'uscita di Mazzi disturba il brasiliano. Un break della formazione di Spalletti, Bianconi per Esposito, tiro al volo e Pagliuca blocca. Poi Paolo Sosa, Coe e il gol di Colonese al 22esimo minuto. Tutti a cercare Ronaldo ma sbuca Colonese e segna il suo primo gol in Serie A e l'1-0 per l'Inter dopo 22 minuti di gioco. Ancora Ronaldo che parte sul filo dell'offside, qui è bravissimo Mazzi a deviare in calcio d'angolo. Recoba partner del brasiliano e poi c'è questa autorete dell'Empoli, questo tocco di Fusco con la palla che finisce in fondo al sacco. 2-0 e naturalmente Cambi che partono con Mazzantini al posto di Pagliuca. Ronaldo posizione ancora regolare, prova a strafare il brasiliano e sulla linea c'è la deviazione. E ancora Mazzi che ha una fortissima capocciata sul palo, osservate ancora nel tentativo di rispondere al colpo di testa di Galante. Ma il 19enne portiere dell'Empoli fortunatamente si riprende. E siamo adesso nella ripresa, il solito obiettivo, far segnale. Ronaldo, muro dell'Empoli, muro da fare. Vinter e Bianconi alle spalle lo stende, secondo Rossetti, arbitro di Torino esordiente a San Siro. Il calcio di vigore, Biroff e lontano. Ronaldo però porta 24 il suo bottino, un fatto di gol in questo campionato. Sorridente il brasiliano che nei prossimi giorni raggiungerà naturalmente la sua nazionale. Ronaldo, Recoba, assist e c'è doppietta per Ronaldo, con un Ronaldo che non raggiunge Biroff ma centra al 26esimo, il suo 25esimo bersaglio. Un campionato ancora questo delizioso assist di Coe, come vedete, partita ad una porta sola. Praticamente quando c'è questo break di esposito il tocco innocente di mano di Mezzani, ma per Rossetti inflessibile. E calcio di rigore c'è il gol di Cappellini, il gol dell'Empoli per il 4-1 definitivo. E naturalmente poi ci sono le scene di esultanza da parte dei tifosi dell'Empoli ed il saluto di Ronaldo. 25 gol in questo campionato, 34 stagionali con l'Inter, mai un giocatore non italiano nella sua prima stagione. Ha segnato così tanto l'Inter che si consola anche con un piccolo primato, quello della migliore retroguardia. 27 gol subiti soltanto in questo torneo. Addio per Luciano Spalletti, si è fatto adulto, si è fatto grande anche con il suo Empoli. E tornerà a San Siro la prossima stagione, qui con la Sampdoria.